Cominciamo a dialogare oggi di storia del Novecento, nell'ottica di costruire un quadro complessivo, una visione di insieme di questo secolo affascinante, complesso, violento e ricco di elementi estremamente interessanti. Credo, seguendo le indicazioni di uno storico che si chiamava Maier, che ha parlato di età lunga, credo che sia bene per comprendere il Novecento in questo caso, in quest'ottica, partire dall'Ottocento. Nell'Ottocento c'è, troviamo alcuni grandi avvenimenti che poi saranno elementi fondamentali, elementi estremamente importanti per comprendere il Novecento, elementi da cui partire, per comprendere poi alcune dinamiche che nel Novecento si svilupperanno. Partirei dal tema delle unificazioni nazionali. Il Novecento ha avuto per molti versi il tema dominante, il tema importante delle nazionalità e dell'unificazione nazionale, i risorgimenti e le grandi unificazioni. Certamente a me viene in mente innanzitutto un'unificazione italiana, particolata, complessa, non priva di contraddizioni, ma anche nel suo genere un evento rivoluzionario. In dieci anni, soprattutto naturalmente per opera così di Cavour e di una certa connessione di avvenimenti che anche Cavour e poi dopo con l'aiuto delle forze caribaldine e delle forze democratiche sono state messe in campo, insomma un'unificazione in dieci anni che credo abbia avuto qualcosa così di unico nel suo genere, probabilmente anche molti sono rimasti meravigliati che fosse possibile in dieci anni giunge a un certo tipo di unificazione, con tutte le contraddizioni del caso, naturalmente unificazione che parte in qualche modo, allora era solo il Piemonte, dall'azione di Carlo Alberto, sappiamo nel 1848 dalla prima guerra di indipendenza, un'azione che ha caratterizzato punti critici, difficoltà, un fallimento finale, ma che credo per noi sia importante in quanto evidenzi la necessità che poi l'Italia sempre avrà di trovare delle alleanze. L'Italia non può fare da sola e diventerà poi nel lungo periodo, nel medio periodo, una potenza di una piccola potenza e come tale non può muoversi senza un quadro di alleanze. Una questione che sarà evidente già nel 1848 che poi Cavour affronterà così con gli accordi con Napoleone III, sappiamo noi gli accordi a Plombiers e sappiamo la connessione con la Francia. Voglio dire che sarà un tema che rimarrà dopo poi anche nella grande guerra, quella che è chiamata anche prima guerra mondiale, cioè il rapporto di alleanze che l'Italia deve mettere in campo, poi dopo con la seconda guerra mondiale, forse ancora più spinoso, ma poi anche dopo nella guerra fredda, ma poi per certi versi anche oggi. Ma la fase centrale, il punto centrale dell'Ottocento, credo, per comprendere poi certo tipo di sviluppi che ci saranno nel 1900 è la guerra franco-prussiana, 870-871. Lì Napoleone III cade, l'età, il periodo di Napoleone III cade forse in una specie di tranello, di agguato che è messo in campo la Germania, è messo in campo Bismarck, un tranello che lo porterà alla sconfitta e all'uscita di scena politica e anche in qualche modo alla caduta di un ruolo di grande potenza, di grande potenza egemonica che la Francia in qualche modo pensava di aver acquisito. Certo non è facile ricordarsi Napoleone I, il ruolo importante, il ruolo egemonico che Napoleone I ha avuto negli inizi dell'Ottocento in Europa e in qualche modo l'idea che forse aveva anche Napoleone III che la Francia dovesse mantenere questo ruolo di grande potenza, comunque un ruolo di grande potenza che non era una novità nella storia francese se pensiamo all'esperienza di Luigi XIV. E questo fatto che la Francia perderà un po' questo tipo, questo suo tipo di ruolo e insieme perderà anche la Sazia e la Lorena, due regioni fondamentali per l'epoca in quanto poi possedevano il carbone, saranno uno degli elementi che condurranno, uno degli elementi da tenere in considerazione per comprendere le grandi tensioni che condurranno la grande guerra, ovvero la Germania che diventerà la nuova grande potenza politica, militare e poi anche economica, una potenza egemonica, una potenza che vuole un suo spazio in Europa, un suo spazio che ritiene giusto avere, ritiene così di dovere conquistare. Anzi, Germania crescerà via via sempre di più con l'idea dell'accerchiamento, un accerchiamento da parte della Francia e in qualche modo anche della Russia, l'idea di dover sfondare un accerchiamento e di dover anche sfondare nei mari un armamento che avrà anche nei mari, dal cosiddetto ritmo di tre che poi il Kaiser metterà in campo per darsi tre corazzate all'anno nei primi del Novecento. Insomma, la Germania è una nuova grande potenza che vorrà un proprio ruolo nel quadro europeo, un proprio ruolo che cercherà di ottenere attraverso una serie di azioni anche di sfondamento. Poi sappiamo che uno storico come Fischer ha voluto vedere, non tutti sono d'accordo, il punto di arrivo della grande guerra come una scalata al potere della Germania che aveva cominciato a metà ottocento. Bismar però sarà molto attento perché eviterà che la Russia, fino a che ci sarà Bismar, sarà molto attento perché eviterà che la Russia si unisca alla Francia e quindi che realizzi quell'accerchiamento che Germania in qualche modo ha sempre temuto, poi dopo sarà il Kaiser Guglielmo invece che con la sua politica di politica, con la sua politica di potenza, con la sua politica imprudente, senza quegli equilibri che aveva bisogno, porterà invece la Russia progressivamente ad unirsi alla Francia e all'Inghilterra. E proprio dalla crisi, dal momento della guerra franco-polsiana nascerà quel sistema di alleanze in qualche modo, proprio da lì in poi, un sistema di alleanze che via via si consoliderà, non si consoliderà. Da una parte abbiamo la triplice alleanza, dove dentro c'è in modo molto innaturale Austria, Germania e Italia, qui in questo senso poi l'Italia si è schierata con la Germania, è un po' come dire, è una problematica che ci sia anche l'Austria, l'Austria che è la nemica storica dell'Italia, è viceversa naturalmente, è viceversa, un odio, credo, ben ricambiato, insomma, da parte almeno della classe dirigente di questi due paesi, ma però è la Germania, è l'elemento di unione e qui l'Italia poi si avvicina alla Germania in chiave antifrancese, con l'idea che con la Germania si possa fare molta strada, anche da un punto di vista politico, oltre che da un punto di vista economico. Dall'altra parte, cioè poi nei primi del Novecento ci sarà l'intesa, Germania e lenti che cominciano a prendere corpo da fine Ottocento ai primi del Novecento, poi con cui si arriverà la Grande Guerra, cambieranno nella Seconda Guerra Mondiale, sappiamo perché l'Italia si sposterà per una serie di motivi, penso anche di errori di calcolo legati alle scelte di Mussolini, si schiererà poi con la Germania. E sono gli anni anche questi di un affermarsi di una sovranità popolare, sono gli anni dove l'ha un certo ceto aristocratico che costantemente ha un suo grande prestigio, ha un prestigio di nome, voglio dire, ma non politico, la borghesia ha acquisito il potere, ormai da un certo tempo, almeno dal 48 e poi, guida la rivoluzione industriale e però cerca un elemento di equilibrio con le classi dominanti, non uno scontro diretto. Certo, il popolo preme per giungere alla possibilità di votare, per avere nuovi spazi politici, per allargare il suo ruolo nel quadro politico, è il periodo che si fa strada alla richiesta del suffragio universale, un suffragio universale, cioè di una prospettiva democratica non solo liberale, di diritti individuali, ma democratica, cioè la partecipazione del popolo alla scelte politiche e via via in vari paesi, Francia, Germania, poi nei primi del novecento anche Italia, insomma c'è il tema della sovranità popolare. All'interno di questo quadro politico complessivo di grandi cambiamenti vi è sicuramente la seconda rivoluzione industriale, cioè che modifica i rapporti economici e che dà una forte accelerazione economica, produttiva, di modo di vivere e di capacità produttiva prima l'Europa, prima l'Europa che può diffondersi fino a metà dell'Ottocento e poi dopo anche in altri paesi, in altri paesi, non solo in paesi europei. Direi che poi alla fine, dopo la seconda rivoluzione industriale, sarà la Germania a acquistare un ruolo di leadership nella produzione del carbone, dell'acciaio, di quei nuovi elementi produttivi che fanno la differenza in un quadro internazionale come potenza. Si connette alla seconda rivoluzione industriale e all'imperialismo. In qualche modo poi la seconda rivoluzione si lega fortemente all'imperialismo, è così un mandato duplice e l'imperialismo è quello il quale poi consente un certo tipo di sviluppo e di industrializzazione in qualche modo e si avviene tramite un ampliamento dei mercati, una nuova corsa alle colonie e non è come, diversa dal colonialismo di età moderna, non è un semplice cosmopolitismo di capitali, di merci, di prodotti, si può prendere dei prodotti, spezie, la seta, i paesi non europei, non occidentali, ma qui invece diventa un controllo del mercato. I paesi capitalisti, i paesi che poi saranno i paesi della seconda rivoluzione industriale, poi le grandi potenze economiche ma anche politiche che sono poi generalmente paesi europei e la Germania è il primo tra questi paesi della seconda rivoluzione industriale, si aprono uno scontro economico, politico ma anche culturale per un'egemonia mondiale e un controllo dei grandi mercati che caratterizza anche l'affermarsi di un proprio stile di vita, di una propria cultura, di un proprio modo di vedere le cose e di intendere la vita. L'imperialismo non è probabilmente solo un fatto economico ma è anche un fatto politico, un fatto di scontro ideologico, un fatto di scontro culturale, questo avrà un suo ruolo anche questo poi nel decifrare e nel comprendere alcune dinamiche della grande guerra e perché no anche poi dopo quelli che saranno i regimi totalitari tra le due guerre, dopo la prima guerra mondiale. Certo è un periodo in cui l'Europa è al centro del mondo, l'evoluzione industriale, l'imperialismo e dall'altra parte lo sgrettolamento dell'impero turco, dunque una frantumazione anche di grande realtà esterne al mondo europeo, prima nei Balcani e poi in Africa, e fa sì che in questo momento l'Europa è il luogo dove si prendono le decisioni. Questo sarà almeno fino alla grande guerra, o diciamo pure che la grande guerra è uno di quei momenti di passaggio, di rottura, dove cominciano a farsi strada nuovi protagonisti nel quadro mondiale, innanzitutto l'America. E poi dopo, sottofondo a tutto, che in termini anche di lunga durata, a mio modo di vedere, c'è la fermarsi del movimento operaio. Sempre che la rivoluzione industriale crea delle fabbriche con le fabbriche, fabbriche siderurgiche, fabbriche meccaniche, fabbriche che impiegano una grande quantità di operai e quindi la scesa della borghesia si affianca anche, quella che ha prodotto l'industrializzazione, si affianca anche la crescita del mondo operaio, come Marx chiamerà il proletariato, il proletariato che via preme per aumentare i propri spazi, i propri spazi di diritti, le proprie tutele, abbiamo visto la richiesta del diritto di voto, ma anche i diritti sul lavoro, l'assistenza sul lavoro, la questione salariale, quelle che sono le grandi tutele e così complessive. Vi sarà proprio a fine ottocento una storia del movimento operaio, una fermazione del movimento operaio dalla prima internazionale alla seconda internazionale, la comune di Parigi proprio del 71, tutta una serie di momenti che poi faranno sì che anche la Chiesa inizierà ad affrontare questa questione, la questione dell'affermarsi delle classi lavoratrici, penso la Rerum Novarum di Leone XIII del 91-891. Ecco poi il tema del movimento operaio che sarà nel 900 un tema estremamente importante. Mi fermo qua, vi ringrazio per avermi seguito, vi aspetto ai prossimi incontri dedicati alla prima parte del 900 e poi alla seconda parte del 900. Grazie e a presto!